Non è un bravo, 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 non è un bravo. Fermare le aggressioni ai dipendenti dei mezzi di trasporto pubblico. In vista del giubileo, le aziende Cotral e Atac sono al lavoro per dotare il personale di un panic button portatile, una sorta di pulsante antipanico con localizzatore GPS direttamente collegato al numero unico di emergenza 112. Tra le nuove misure è anche l'installazione di bodycam a controllori e autisti fondamentali per l'identificazione degli aggressori. Un accordo che i sindacati chiedevano da tempo, visto l'aumento delle aggressioni ai dipendenti. Le inefficienze del sistema, così come le peggiorate condizioni che ogni cittadino vive quotidianamente sulla propa pelle, producono degli effetti rispetto ad aggressioni che i lavoratori di questo settore vivono oramai in maniera quotidiana. A confermare la mancanza di sicurezza sugli autobus sono gli stessi autisti. Diciamo se ci fosse un po' più di sicurezza, diciamo, tra virgolette, sul pulma sarebbe meglio. Il Campidoglio attiverà anche un osservatorio per individuare le zone a rischio e intensificare la videosorveglianza.